Il progetto SHIP-UP per la salvaguardia di quattro razze ovine rare del Veneto è uno dei sei vincitori del riconoscimento europeo EIP Agri Innovation Awards per l'innovazione in agricoltura e allevamento. Che cos'è questo progetto? Qual è l'obiettivo e come è stato sviluppato? Il progetto SHIP-UP è un progetto finanziato nell'ambito delle misure di cooperazione sostenute dal PSR della Regione Veneto. È stato sviluppato dal 2019 al 2023 con un partenariato che ha coinvolto, oltre agli istituti di ricerca, gli attori principali che sono gli allevatori delle razze autoctone di ovini, coadiuvati da un'altra serie di portatori di interesse rilevanti per il territorio. L'obiettivo principale del progetto è stato quello di mettere in evidenza il valore aggiunto che ha l'allevamento ovino di razze locali per il territorio veneto. Per farlo sono stati messi in atto una serie di azioni che hanno riguardato le quattro razze del Veneto, quindi la Mon e Alpagota in provincia di Belluno, Fozza in provincia di Vicenza e Brogna in provincia di Verona. L'auspicio è quello di dare sostenibilità ai risultati del progetto continuando a mantenere viva la cooperazione che è il punto di forza su cui bisogna lavorare per favorire una gestione sostenibile di queste risorse genetiche. Grazie a questi fondi PEI Agri che mettiamo a disposizione come regione riusciamo a puntare molto sulla ricerca e l'innovazione tecnologica per sviluppare molte produzioni agricole, in particolare quelle in montagna che sono legate alla valorizzazione territoriale, quindi a prodotti sul territorio. Queste sono risorse della vecchia programmazione ma anche nella nuova ci sono 47 milioni di euro a disposizione. Il ruolo del Consorzio è stato di coordinare una serie di università, di scuole, di produttori, tutti quelli che hanno lavorato nell'ambito del settore della lana e della pecore in questo periodo. Lo scopo era quello di cercare proprio di riunirli per cercare di trovare soluzioni per salvare queste quattro razze autoctone venete. Il problema maggiore è il lupo, quindi gli animali non possono più rimanere incostruiti 24 ore su 24, quindi un problema e un costo.